Dal prossimo fine settimana scatteranno le modifiche, ovvero gli aggiustamenti all'isola pedonale temporanea estiva, che tanti malumori e spaccature in maggioranza ha pure creato. Questo dopo il vertice di maggioranza che ha concordato diversi interventi, che non solo sono cambiamenti di orario, ma che coinvolgono il centro in modo più ampio. A dirlo è stato il sindaco Pierluigi Biondi, nel corso del Consiglio Comunale, al quale era collegato in videoconferenza, dinanzi ad un gruppo di commercianti che ha voluto essere presente. Anche oggi il sindaco ribadisce l'apertura all'ascolto, ma afferma anche che sull'isola non c'è in discussione il discorso in generale. L'isola pedonale è una cosa che va fatta. Cosa cambia? Da lunedì al venerdì l'isola partirà alle 19 a via Garibaldi, alle 20 in piazza Duomo, esclusa via Indipendenza. Il sabato e la domenica scatterà alle 13, non più alle 11, sempre fino a mezzanotte. Ci sono degli aggiustamenti da fare, che sono frutto di una riflessione fatta insieme ai commercianti. Naturalmente non è in discussione l'isola pedonale, che è una prospettiva ineluttabile, ma non solo per la città dell'Aquila, ma per tutte le città d'arte. Ci saranno anche altri cambiamenti in merito agli orari del terminal e alla sua sicurezza e sarà slittato anche l'orario della navetta gratuita a mezzanotte o forse di più nei fine settimana. Su questo spiega Biondi che si sta dialogando con l'AMA, l'azienda della mobilità, per concordare il tutto. Stiamo verificando con AMA la possibilità di ampliare gli orari e la frequenza delle navette che ricordo, così come il parcheggio del terminal, sono gratuite e cercheremo di implementare anche il discorso degli eventi in piazza Duomo per cercare di rilanciare anche questo pezzo di città, perché in realtà i turisti non mancano. Da informazioni che ho dai commercianti di altre zone le cose vanno molto bene, gli alberghi e i bimbi sono pieni, bisogna solamente forse riequilibrare le presenze relativamente alla diffusione sulla città.